Musica Bella a tutti ragazzi, qua è Yanofficial94 che vi parla Siamo di nuovo in un nuovo episodio di Diversity e siamo in compagnia di Elsa Violito Bella a tutti Bella, allora, c'è stato un piccolo problemino Piccolo? Enorme problema Eh, sì, non voglio dirlo proprio direttamente ai miei iscritti, quindi piccolo, ma che era grande Che sto coglione di Savio voleva fare trivia, che in effetti non sapevo neanche io cos'era Per curiosità ci siamo andati e ci siamo stati un cazzo di anno su questa merda Abbiamo registrato per circa 40 minuti penso No, ma molto di più, fidati Ok, più di 40 minuti Ragazzi, ed era di una noia, era di una noia mortale Quindi abbiamo preferito non metterlo perché Era la classica cosa, non so, quanto fa 2 più 2, ci sono 4 risposte Voi dovete scegliere quella esatta, solo che erano domande che Nemmeno il creatore di Minecraft in persona, che adesso sappiamo come si chiama Lo ricordo che era tra le domande Marcus Persson Ecco, neanche il vecchio Marcus avrebbe saputo Andrei quindi, quindi Ok Grazie a sta merda ora sappiamo tutto di Minecraft Abbiamo deciso stavolta di Un po' sicuro di Aspetta, aspetta, aspetta Riparla perché sei buggato su Skype Ok, mi senti bene ora? Ora sì Ok, le oso solo del Arena Entra in arena Che cosa vuol dire chi è? Ma tu dove sei? Aspetta, fermati Guarda che non ci sei ancora Sì che ci sono Mi hanno dato una spada di ferro Ma tu mi vedi? Sì, torna dietro, torna dietro, non scendere Vai su Gear Up e clicca e prendete una spada di ferro Perfetto Ok Arena U Cos'è? Oh ship! Ma tu? Oh mio dio, che schifo, aiutami Ma tu dove sei? Vabbè Io sono nell'arena, aiutami Aia, aia Che schifo Fanno schifo queste cose Cosa sono? I pescioli d'argento Ah, ah Mio dio Ah, oh Ah, ah Fanno schifo Oh Ah, ah, oh ship Oh, pg di left for dead No, ecco ragazzi, introduciamo questa cosa Io so che faremo ancora una serie di left for dead A proposito lo do lasciar scaricare perché L'avevo cancellato Merda mi stanno scambando il culo questi cosi Io non ti vedo neanche quello è bello Oh, si è aperto un pulsante Cliccato Ah, è andato delle scalette Dove? Cazzo mettiti, scaletta di merda Oh, ship mi stanno ammazzando, ora Rai to mi ti prego Ti prego Mi stanno uccidendo Cuore, 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 cuore Via, 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 sali, 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 sali Ma tu dove sei, salio Io ho messo le scale Ah, sono saliti Cosa? Oh, cazzo Rompi le scale, rompi le scale Ecco, morite, stronzo Reward Non mi vedi, Ra? No Ti giuro Io sì Eh, però così non si può fare Non si può fare Perché non mi vedi, scusa? Tu Ma tu dove sei? Sono praticamente davanti Cioè, sono dentro di te, praticamente Ma seriamente non mi vedi? Serio Aspetta, riaviamo il server Stop l timer Ok, ragazzi, ci siamo Eh, c'era un piccolo problemino del server Tecnico Non mi faceva vedere lui Eh, quanto è sexy Anche se è un bebé È bebé Ora? Oh, merda Tra i miei bambini Oh, mio Dio Oh, mio Dio No, io, no Odio gli slime Ma quando gli slime attaccano, scusa? È vero Non ho mai visto uno slime attaccarmi fino ad ora Ah Oh, però sono forti Oh, madonna Ah Sanna quanti sono Sembra Col mouse ci dobbiamo far fare Ci dobbiamo far fare Col mouse Ah, vai Puttana, quanti Figli di troia Quanti minuti siamo? Eh, 4 e 35 Digià, che cazzo Dai, facciamo almeno 10 minuti Sì, sì Oh, vai, vai, vai Pulsanti Ok, mi è arrivata una raffica di colpi immane No, ancora si è spawnato Eh, sì, continuano Rai, io ho schiacciato il pulsante ma non ho le scrade Oh, io sono quasi morto Oh Ok, io sono morto E non riesco a rinascere Ma quanto ci mettono a formarsi le scale? Io ne ho 4 Cosa? Coprimi Ah, anch'io ne ho 4 Andando, andando, andando Muoviti Via Non l'hai messo Veloce, veloce, sali, 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 sal Non l'hai messo Sì, che l'ho messo Sì, che l'ho messo Sì, che l'ho messo Io non le vedo Sali Non ci sono Ah, ok Sali in fretta Guarda, non ci sono Oh, no Ah Ah No Corri, sali Fanculo What? Ma sono scompar Oh mio dio Ok, uno slime gigantesco Bello, io ho anche le braghe di fuoio Oh, tippa di mirata, tippa di mirata No, 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 morti Pochi Muoviti Eh, aspetta Eh, aspetta Eh No, 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 no Vett equipo Madonna ma sembra Che ci sono dei Del degli scroti che saltellano lupo oscine cubi di magma sono tipo di slime ma più cattivi e più magma oh merda mi hanno quasi ammazzato sono una merda oh mio dio riprende dallo sfondo numero 1 no che schifo i pescioli d'argento lupo oh mio dio che paura ah! ah! sono stiti sono saliti aiutami quanto li odio questi cosi tutti e due abbiamo fatto quattordici oddio quanti slime oh merda non ci sono più scale chi è il froncio che ha messo così poche scale oh oh mio dio eeeh vaffanculo guarda me li sono fatti tutti io ma guarda te dove ho vuole un fornito oh no 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 lo un croce oh sì ma chi è che l'ho mette le mette le mette le mette le vieni a riporare 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 e ma è ovvio io ho combattuto contro il latte perché un nemico è un nemico per peggiorno o c'è il checkpoint amore per tubigini niente non è il checkpoint cos'è? 8 tutti i vestiti d'ufficio ea io ho la default non ho la la textra merda invece nella textra i fil sono vestiti da avvocati si lo so ah merda oh ma c'è un cuvo di magma che cazzo cuore ma sono tutti da merda guarda il sabio che arriva in tuo soccorso oh merda vaffanculo io ti salvo pure le chiave ah che bello un episodio non bestiammioso no niente oh merda oh mezzo cuore chi? ma vaffanculo oh merda oh ma oh ship raiutami arrivo 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 ah lascia lo sabio non ne viva chi ti deve salvare il culo no sei tu che le scale io non ce n'ho oh ship è vero ahahahah aspetta pazzai ahahahah forse coglione io che mi butto pure in mezzo agli zombie aiii si Ok, abbatti l'ultima scaletta Stanno salendo, stanno salendo Non riesco a spaccarla Neanch'io Ok, l'ho rotta Una bella armatura di maglia Buona Oh no, già gli arcieri Così accanto Il tempo è fallito Capito? Il tempo è esaurito Oh merda Allora dopo questa Registrita Già? Ah no, ecco, mi sembra troppo facile Eh ma c'è il counter C'è prende che basta aspettarli qua e uccidere Sei pieno di frecce Eh, non so, sciottano solo me, sti coglioni Oh ma, Filippo Modeno Lol, vero che a me non mi cagano minimamente Aiuto, mi auguro Io li sto menando, eh, se no che picchiano Ma uccidete Savio, no Cos'è sfumore? Cos'è sfumore? Tosso Oh me Ok, ora iniziano a pestare anche bene Ahia Oh ma Filippo Sì, ne sono spawnati Oh Eh vabbè Filippo Resisti Non morire Eh, resisti Una minchia No, ho sbagliato Ok Scale, 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 scale Non ce le ho io Ah sì invece ce le ho io Bra, messi Arrivo Corri Forest Qua indio quanti ferici hai Oh no E stavo cadendo giù Brutti bastardi non ci Bene, ok Adesso tocca me il tempo esaurito Quindi bella Allora, bella Eh, bella così a cazzo no, vabbè Mettete mi piace Iscrivetevi se non siete iscritti Condividete il video Eh, scopate il video E bella ragazzi Bella Ah, aspettate E ci rivediamo da me Con la prossima puntata ovviamente Quindi Andate sui canali Sì, muovete Su suo canale Bella